Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città di Torino al nostro secondo appuntamento di oggi, l'ultimo della giornata con le notizie dal web della città. Cominciamo come al solito con la viabilità, ricordandovi che l'elenco completo delle notizie lo trovate all'indirizzo in questo momento in sovrimpressione all'interno della sezione ultimo minuto. Dicevamo allora la viabilità per quanto riguarda ancora questa sera, vi segnalo a causa di alcuni lavori, un divieto di transito in via Gramsci tra via Roma e via Amendola, sempre per lavori, abbiamo dei rallentamenti in corso Unione Sovietica all'angolo con strada del Drosso. Ancora lavori in via Cavalli tra il Civico 6 e il Corso Inghilterra e poi abbiamo lavori di potatura in Corso Gabetti tra Piazza Armada e Corso Casale, in Corso Matteotti tra Corso Reumberto e Corso Bolzano, in Piazza Stampaglia dal lato del Capolinea del Tram numero 9 e in Corso Svizzera tra Corso Regina Margherita e Piazza Pier della Francesca. Vi segnalo poi anche che questa notte, come ogni settimana, dall'1 alle 3 chiuderà il sottopasso di Corso Regina Margherita, sottopasso di Porta Palazzo per le tradizionali operazioni di pulizia meccanizzata. Per quanto riguarda la mobilità è tutto per questa sera, allora passiamo a vedere qual è la situazione del tempo in città grazie alle rilevazioni dell'Arpa Piemonte che vedete sulla nostra home page. Cielo nuvoloso, temperatura intorno ai 4 gradi, un'umidità dell'87% circa. Le previsioni per quanto riguarda la serata, la notte e il mattino di domani ci danno un cielo sostanzialmente nuvoloso. Passiamo a vedere un paio di notizie dal web della città, notizie relative ai prossimi giorni in città, in particolare, ma questo lo ribadiremo anche domani nella nostra ultima edizione dell'anno. Ricordiamo la mobilità con i mezzi pubblici per domani, ultimo giorno dell'anno, e per la giornata di Capodanno. Vi ricordo che per consentire i festeggiamenti in Piazza Vittorio Veneto sarà chiuso il ponte della Gran Madre a partire dalle 9 del mattino, quindi sarà interamente chiuso al traffico. Trovate l'elenco completo delle variazioni alle linee di trasporto pubblico che sono interessate da questa chiusura sul sito di GTT e a partire dalla nostra notizia. Dalla chiusura del ponte, quindi dalle 9 del mattino fino alle 20, ci sarà un servizio sostitutivo di navetta per collegare Piazza Vittorio e Piazza Gran Madre. Vi segnalo poi che la metropolitana sarà in servizio fino alle 3 del mattino della notte di Capodanno, quindi fino alle 3 del mattino di giovedì 1 gennaio, con l'ultima partenza dai Capilinea alle 2.40. Il servizio poi riprenderà alle 7 della giornata di Capodanno. Le linee notturne che collegano la periferia al centro anticiperanno la loro entrata in servizio e sempre a partire dalla notizia trovate i dettagli sul volantino informativo. Infine vi segnalo che nella giornata di Capodanno il servizio avrà il normale orario festivo, quindi potete trovare sempre sul sito di GTT tutte le informazioni. Ancora per i prossimi giorni vi segnalo che dal 3 di gennaio inizieranno i saldi invernali del 2009, saldi che si concluderanno il 27 febbraio. Trovate dalla nostra notizia l'ordinanza con tutti i dettagli. Chiudiamo allora con le nostre webcam, andiamo a vedere qual è la situazione in città, questa la situazione di piazza Palazzo di Città. Come vedete tutto tranquillo, non c'è un alito di vento nella piazza. Andiamo a vedere la situazione allo stadio olimpico, questa la situazione alcuni istanti fa da una delle nostre webcam. Ci spostiamo poco distante in piazza Pitagora all'angolo concorso Siracusa, vedete un po' di traffico in direzione nord e in direzione sud. Infine chiudiamo con la rotonda autostrade verso la Torino-Milano. Direi che non ci sono problemi di traffico. Bene, allora ritorniamo in onda per darci l'appuntamento domani mattina alle 9.15 con la nostra prima edizione, l'ultima del 2008. Prima di lasciarci vi ricordo che il 2 gennaio saranno chiusi gli uffici comunali, quindi ci potranno essere ovviamente dei disservizi nell'erogazione dei servizi. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani mattina. Grazie a tutti.